E' stato il sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi a battezzare il sessantesimo anno della rassegna degli ovini di Castel del Monte, in coincidenza con il decennale del terremoto. La rassegna segna infatti il passo anche della ricostruzione sociale e fisica dei paesi del cratere del terremoto. La cultura delle comunità che vivono, e non solo vivevano, ma vivono questi luoghi, credo che sia fondamentale per attirare anche turisti, perché credo che questa sia una delle risorse più importanti di questi luoghi fantastici e bellissimi. Ma attirare turisti non li attiri semplicemente con uno specchietto, devi dare una comunità, devi dare vita, devi dare vita all'attività agricola, l'attività pastorizia, devi farla vivere. E quindi questo museo può diventare il megafono di una comunità che rivive. Abbiamo iniziato a dare lustro alle attività agricole principali di questi territori montani, che lavorano e si sacrificano per mantenere in vita tutti questi territori. La tradizione pastorale che contraddistingue l'Abruzzo intero è stata celebrata nel Museo della Pastorizia di San Marco di Castel del Monte, con la presentazione del libro Pastori d'Abruzzo, della scrittrice aquilana Monica Pelliccione. Un viaggio alla scoperta della vita rurale dei pastori e dell'identità territoriale, basata sull'arte della lana e sulla pastorizia, con il prezioso contributo degli scatti d'autore di Agostino Di Domizio e Fabio Ballone. Il libro nasce da un progetto di valorizzazione del territorio in occasione del decennale del sisma del 2009, ma soprattutto del sessantennale della Rassegna Ovini di Campo Imperatore. Da un'idea, una richiesta del sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, ci siamo ritrovati a cena qualche mese fa per caso anche con l'ex consigliere regionale per Paolo Pietrucci. Abbiamo deciso che fosse venuto il momento di lasciare traccia non tanto della storia della pastorizia in Abruzzo, perché ci sono dei maestri in tal senso che hanno scritto veramente molto e approfondito questa tematica, potrei citare uno su tutti il professor Clementi, ma piuttosto di lasciare traccia dei sentimenti, del vissuto dei nostri pastori, in un'occasione importantissima come questa, la Rassegna Ovini.